Ciao a tutti e bentornati nel mio canale! Oggi tipologia di video diversa dalle mie solite tipologie di video che sono video pulizie, video della spesa, video motivazionali. Oggi andremo a parlare di dieta perché comunque nei video precedenti, nei vlog che ho fatto in questa settimana soprattutto avrete visto che ho parlato molto spesso della dieta che sta facendo mio marito, vi ho fatto vedere che comunque vado a pesare tutto, vi ho detto che sono un po' stressata per questo discorso perché comunque è pesante da seguire, non solo per chi la sta seguendo che è mio marito in questione ma anche per me che comunque devo andargli dietro, ma comunque in questo video voglio andare proprio nel dettaglio e spiegarvi che tipologia di dieta sta andando a fare Federico. Questo video è in collaborazione con la mia dolcissima e carissima amica Maria Marinella Esposito del canale Maria Marinella Esposito. Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Allora come avete letto dal titolo questo è un video in collaborazione con la bellissima e dolcissima Emanuela P. Che saluto, mando un forte bacio e abbraccio tantissimo. E abbiamo deciso di fare un video in collaborazione insieme perché lasciando stare l'amicizia che c'è tra di noi anche nella vita privata, anche se siamo lontane, ci sentiamo spessissimo, lei è una ragazza dolcissima, pagata, adorò il suo modo di parlare e di porsi soprattutto, tutto il contrario di me che sono sempre accelerata. Abbiamo deciso di fare questo video in collaborazione proprio proprio perché lei sta seguendo, anche lei è una dieta, però è seguita da una nutrizionista. Quindi comunque io andrò a parlare della dieta di mio marito che è seguito da un dietologo e lei andrà a parlare della sua dieta seguita da una nutrizionista. Quindi comunque potrete andare a vedere entrambi i video, a farci una cultura, mi ci metto anche io nel mezzo perché io non so che tipo di dieta si faccia con una nutrizionista. Io sto vedendo quella che fa mio marito con un dietologo e quindi comunque possiamo andare a vedere le differenze tra l'uno e l'altro. Quindi comunque vi raccomando di vedere il mio video e poi andare a vedere il video di Maria Marinella Esposito. Vi lascio tutto in info box, vi lascio anche il link diretto al canale e al video di Maria Marinella Esposito. Allora, partiamo dal fatto che il mio marito, adesso è quasi un mese che comunque segue questa dieta. Lui ha cominciato con la prima visita, come fanno tutti, portando anche comunque gli esami del sangue, quindi comunque è stata sviluppata una dieta personalizzata e molto accurata. Il dietologo dove lui è andato è un dietologo molto famoso qui a Palermo e molto bravo. È molto severo, infatti molti non vanno proprio per il fatto che questo dietologo è molto severo e ci tiene che le cose siano fatte per come si deve, che la dieta sia seguita per bene. Dovete figurarvi che mio marito è andato a settembre a fare la prima visita e ha iniziato la dieta a ottobre. Perché? Perché lui ha detto che a ottobre avremmo avuto il compleanno, il primo compleanno di nostra figlia Giuliana e in questa dieta non sono ammessi strappi alla regola. Quindi il dietologo gli ha detto espressamente se tu cominci questa dieta e ti invita a un compleanno, hai un compleanno, hai un matrimonio o tu ti porti il tuo cibo da casa, quello che ti concede la tua dieta, oppure declini l'invito. Quindi mio marito ha preferito cominciare da dopo il compleanno di nostra figlia, cioè vedete a che livelli di rigidità siamo, e iniziare e non fare sgarri, non fare strappi alla regola, non sbagliare. Quindi c'è stata questa prima visita dove comunque è stato visitato con degli elettrodi, hanno visto la massa grassa, la massa magra, la massa muscolare, hanno misurato tutto, hanno considerato gli esami del sangue che mio marito aveva portato, nel caso di mio marito c'era il colesterolo alto e poi la dieta viene sviluppata dal dietista. Il dietologo, il medico, il dottore che fa la visita, penso che questo lo sappiamo tutti, e poi la dieta viene sviluppata dal dietista. Questi dati vengono passati dal dietista e il dietista ti fa la dieta personalizzata per il tuo tipo di fisicità, per quello che ti serve, se ti serve diminuire massa grassa, se ti serve aumentare, perché c'è anche chi va per ingrassare, non solo per dimagrire. Comunque la dieta viene fatta proprio personalizzata, anche in base ai valori degli esami del sangue. Quindi mio marito sta facendo comunque una dieta che andrà a far scendere i valori del colesterolo. Allora, io volevo raggiungervi due faroline per farvi capire proprio di che tipo di dieta si parla, perché non la sto facendo io, ma la sto vivendo insieme al mio marito, ragazze, credetemi, è pesante. È pesante per chi la fa e forse più pesante per la moglie che segue, che fa 100.000 pentoline e pentolini, perché è tutto pesato, tutto tutto, dall'olio al biscotto, al gamberetto, a tutto tutto tutto. Allora, queste due paroline per farvi capire proprio in che cosa si incentra questo tipo di dieta che sto seguendo Federico. Qui ci dice che il peso del corpo ha la bilancia e la somma di due componenti. La massa grassa, il cosiddetto grasso bianco, che è quello di riserva del nostro corpo, e la massa magra, che è tutto ciò che non è grasso, i muscoli, le ossa e l'acqua che contiene il nostro corpo. Perché quando noi ci andiamo a pesare, andiamo a pesare tutto. Non è che io peso 62 kg e sono 62 kg di grasso. È che comunque, gli spiegava il dietologo, anche quando tu vai a perdere il peso che devi perdere, 10 kg di grasso nel corpo per avere una fisicità salutare servono e devono esserci. Non bisogna essere pelle e ossa. Quindi questo è un punto molto importante che fa riflettere a tutti quando diciamo voglio dimagrire, voglio dimagrire. Pelle e ossa non esiste, non è un buono stato di salute. Poi, andando avanti, chi dice, il peso forma è un concetto molto teorico. Ecco, quello che non riuscivo a dire io poco fa. Il solo peso rilevato dalla bilancia spesso ci dà informazioni sbagliate sul nostro reale stato di salute. Potremmo risultare in normo peso, ma avere una composizione corporea non corretta. Ed è quello che cercavo di dire io poco fa. poco muscolo, molto grasso o comunque altre cose. In sostanza, fra virgolette, dimagrire non significa perdere peso, ma perdere massa grassa in eccesso. Ok? È qui che volevo arrivare. Quindi, lui sta andando a perdere la massa grassa in eccesso. Lui dovrebbe perdere 16 kg, ma se lui, ad esempio, dice io ne volevo perdere 20, ne volevo perdere di più. No, perché per il tuo buono stato di salute e per il peso giusto che dovresti essere e la tua fisicità, tu devi avere anche quei 10 kg di grasso in più per le emergenze. Funziona così il nostro corpo. Ma comunque, noi andiamo a pesare tutto, ragazze. Tutto, tutto, tutto. Noi ci alziamo la mattina e cominciamo con una giornata tipo, che ne so, il latte con i biscotti. Colazione è proprio così, semplice, semplice. Lui ha, se non mi sbaglio, 200 ml di latte e 30 g di biscotti. Ve lo dicevo anche nei video precedenti, 30 g di biscotti, i biscotti che utilizzo io sono quelli della Lidl e pesano 9 g a biscotto. Quindi, comunque, sono 3 biscotti e un pezzettino che lui andrà a mangiare, perché devono essere 10 g. Scusate, 30 g. grammi. E questa è la colazione. Un'altra colazione può essere le fette biscottate con la marmellata. Poi, comunque, lui non fa digiuno. Cioè, questa non è una dieta dove lui dice io ho fame. Non esiste, assolutamente. Lui può dire io sono insoddisfatto di quello che mangio, perché molte volte la dieta ci rende tristi, perché non andiamo a mangiare quella schifezzina, quella cosa buona buona che ci piace e magari ci fa ingrassare e ci fa anche male. E però ci soddisfa. C'è proprio quel senso di soddisfazione. Ah, buono proprio. Me lo sono mangiato, mi è arrivato fino all'unghio del piede, come si dice qui in Sicilia. Cioè, con me lo sono goduto. Questo, giustamente, non c'è, perché va a mangiare verdure, carni magre. Insomma, lui, digiuno non è assolutamente, non è questo il problema. Anzi, forse mangia più di me. Perché se prima lui andava a mangiare solamente il primo a pranzo, adesso ha primo, secondo e frutta. Ah, c'è la stessa cosa. C'è il primo, c'è il secondo, c'è il contorno, c'è la frutta. In più c'è lo spuntino, in più c'è la colazione. È tutto tranne che digiuno. Non soffre la fame. Questa è una cosa importantissima. Io adesso vi leggo una giornata tipo, per farvi capire di che cosa si tratta, della dieta che ha stilato il dietista. Mettiamo il caso di 130 grammi di yogurt intero e 25 grammi di biscotti. Questa è la colazione. Poi a pranzo, 80 grammi di bresaola, 150 grammi di lattuga, 100 grammi di pane e 100 grammi di ananas. Questo è un pranzo coi fiocchi, ragazze, per una dieta. Non c'è la pasta perché lui è andato a sviluppare la dieta in modo che quando mio marito è al lavoro, in base anche al lavoro che fa lui, può andare a mangiare appunto il pane o il contorno, comunque qualcosa che non includa la pasta, perché lui al lavoro non può cucinare la pasta. Ma la pasta è a cena e dite come? Tutti i dietologi, tutti i nutrizionisti, tutti ci dicono che la pasta a cena è pesante, che la pasta a cena non si mangia. No, non è così. La pasta a cena si può mangiare, perché i carboidrati comunque sono importanti, sono importanti anche per la nostra dieta, quindi non possiamo andare ad eliminarli. Infatti non fate diere fai da te, quando a volte sento dire mi sono tolta la pasta, mi sono tolta il pane, perché anche i carboidrati sono importantissimi per la dieta. Comunque, stavo dicendo che a cena c'è la pasta e c'è 80 grammi di pasta, no scusate, 80 grammi di pomodori, quindi pasta col pomodoro, 70 grammi di pasta di semola e 60 grammi di gambero. Praticamente lui dice che è buonissima questa qua, è la pasta con pomodoro e gamberi. Quindi 80 di pomodori, 70 di pasta e 60 di gambero. E non è finita. Ci sono 120 grammi di pesce spada, quindi comunque c'è un primo, c'è un secondo. Poi c'è l'insalata, 150 grammi di pomodori di insalata e già praticamente lui sta scoppiando completamente. Quando arriva l'insalata, poverino, quasi quasi vuole lasciarla perché non ce la fa più. Quindi proprio dà quel senso di sazietà come dieta. E poi c'è 150 grammi di pere. Quindi la fame non la soffre, è ottima per questo. Però ogni dieta ha i suoi pro e i suoi contro e il contro di questa dieta sono tre fondamentalmente, secondo me, da moglie che è la vivo all'esterno. Uno, il fatto che comunque bisogna andare a cucinare a parte a chi è a dieta. Che si cucini da solo, che sia uomo, che sia donna o che sia da moglie da andare a cucinare. Lui comunque mi aiuta, è bravissimo, si cucina molto spesso da solo. Perché io avendo i bambini piccoli, come sapete, soprattutto quella di un anno, già vado a mettere altre pentole a parte e vado a cucinare ai miei figli a parte. Magari facciamo Giuliana Mangia a parte, io e Gabriele facciamo la stessa pietanza e Federico va a fare ulteriori tre pietanze, se è il caso, se c'è primo, secondo e insalata. Quindi potete capire che per una che in questo momento ha pure la lavastoviglie rotta è una tragedia. Ma lasciando stare questo, questo è il primo punto. Il secondo punto è che comunque ci vogliono i soldini. Per seguire una dieta, così, ci vuole comprare delle cose per la dieta, degli alimenti per la dieta ogni giorno. Perché comunque c'è la frutta e la frutta se no va a marcire, non puoi comprarla a tonnellate. Ci sono i salumi, come la fesa di tacchino, c'è la carne, c'è il pesce. Comunque cose che magari prima, se io facevo la spesa per un mese e riuscivo a mangiarci, adesso no, devo andare a comprare all'aggiornato o comunque a settimana. Cambiano ancora abitudini. Il terzo punto, che è negativo secondo me di questa dieta, è lo spreco di cibo, che io non sopporto e neanche mio marito. Perché quando tu hai 150 grammi di pere, per esempio, e quindi vai a tagliare, mettere una pera, tagliarla in un altro pezzo, si è ok, puoi darla al bambino, perché Gabriele comunque lo aiuta. A Gabriele piace molto la frutta, quindi comunque magari lo chiami, dici, Gabriele, guarda, vuoi questo pezzo di pera? Il bambino lo mangia. Se con le verdure le do al coniglio. Sta diventando una palla così, ragazze. Perché ovviamente ogni cosa che lui scarta, perché è fuori dal peso che deve avere quel determinato alimento per quel giorno, io cerco il modo come è possibile per non sprecarlo. Ma nonostante questo, nonostante lo vado a mangiare io, magari lo vado ad aggiungere ad un'altra cosa per organizzare una cena, lo vado a dare al coniglio, lo vado a dare come aggiuntiva frutta a Gabriele, c'è sempre spreco di cibo, perché comunque le cose marciscono nel frigorifero, perché comunque non ha subito dopo, magari il giorno dopo, di nuovo la pera, o di nuovo la zucca che sia, o di nuovo l'insalata, magari passano 3-4 giorni, e quindi quella cosa va ad andare a male nel frigo. Questa secondo me è una cosa brutta di questa dieta, lo spreco di cibo, che non dovrebbe mai esistere, secondo me. Ma comunque, lui per il momento ha perso 4 kg, vediamo le cose belle, la soddisfazione, ha perso 4 kg, e sono passate solamente 3 settimane, adesso la prossima settimana, secondo me l'altro diletto lo perde, la prossima settimana andrà a controllo dove sarà di nuovo nuovamente pesato, gli verranno messi nuovi elettrodi per misurare massa grassa, liquidi, e per vedere cosa ha perso, cosa sono questi 4 kg ha perso, perché come dicevamo poco fa, non è detto che tu dimagrisci il peso della bilancia ed hai perso grasso, puoi anche avere perso liquidi, puoi anche avere perso massa muscolare, infatti il dietologo gli ha consigliato non guardare il peso della bilancia, guarda la taglia dei jeans, se tu vedi con la cinta o comunque col bottone dei jeans che ti sta più lento o più largo, vuol dire che allora hai perso massa grassa, questo è un consiglio, una chicca che vi do, che ha fatto il dietologo a lui, e che adesso ho imparato anch'io, e che sto divulgando a voi, ha perso questi 4 kg, secondo me appunto andrà a perderne un altro nell'altra settimana, andrà nuovamente dal dietologo, andrà nuovamente a essere controllato, vedremo pure con gli esami del sangue come va, sui valori sono scesi, e poi andrà a rinnovare la dieta, perché poverello già ha un mese che sta con questa, comunque gira mano, ci sono non sempre le stesse cose però quasi, come risotto ai funghi che comunque si ripete molto spesso, come la pasta con i gamberetti che si ripete molto spesso, la zucca, l'insalata che poverino gli sto scendo anche dalle orecchie, proprio non ne può più, quindi andrà ad aggiungere degli alimenti, a variare un attimino per il piacere del palato, perché appunto abbia magari un minimo di soddisfazione in quello che mangio, non che quello che mangi sia brutto o sia senza sale, comunque il sale andiamo a mettere le spezie, può mettere e può aggiungere tutte quelle che vuole, quindi comunque è saporito, però ovviamente è stato lui bravissimo veramente, perché io non sono addiata, quindi io ho cercato di evitare di mangiare certe cose, ma poi a volte ho ceduto anche davanti a lui con la nutella o con la maionese, lui è stato bravissimo, una volontà di ferro a non assaggiare, l'altro giorno vi dico questa e poi chiudo il video, proprio per elogiarlo e per, se guarda questo video, dargli manforte, anche se io glielo dico sempre, sono alla sua spalla, anche che mi lamento per le troppe pentole e per il fatto che vado a cucinare 100.000 pietanze, però poi glielo dico che sono con lui, io ho comprato la nutella della bandistelle, no scusatemi, della baciferugina e l'ho assaggiata ragazza, è la fine del mondo e lui poverino stava lì dietro e guardava, io ho chiesto, ma non per fare il diavolo tentatore, perché magari a volte nella dieta ci può essere quello strappo minimo che tu dici guarda, vuoi assaggiare? Lui mi ha detto di no, perché comunque gli è stato già fatto il lavaggio del cervello, è un senso buono che lui non deve avere strappi alla regola in questa dieta, deve andare dritto, tutto pesato, anche l'olio che lui ha, che so che sono 16 grammi d'olio, 20 grammi d'olio, lui deve dividerlo nelle pietanze nell'arco della giornata, non può sbagliare, quindi comunque ha anche avuto una volontà di terro, c'è da dirlo, io non ce l'avrei mai fatta, infatti io non mi metto a dieta perché, come difetto proprio sono famerica, però ho anche già detto nei video precedenti, nel video delle domande, quindi io proprio non ce la farei assolutamente, e niente ragazze, questo è tutto, questa è la spiegazione della dieta che sta seguendo mio marito, i pro, i contro, che è una dieta salutare, che comunque rispetta la fisicità delle persone, io spero che il video vi sia piaciuto, adesso andate a vedere l'altro video in collaborazione, il video quasi gemello, nel canale di Maria Marinella Esposito, vi lascio tutto in info box, anche il link diretto al video e al canale di Maria Marinella Esposito, e spero ragazzi che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un pollice in su, e per chi è nuovo non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video, io vi mando un grosso grosso bacio e ciao a tutti!